E' quasi fatta per chiudere il patto per la salute 2019-2021, sciolti nodi fondamentali dopo l'incontro tra Ministero della Salute, il MEF e le Regioni. La prossima settimana il nuovo test andrà in Commissione Salute e Conferenza Stato-Regioni. L'annuncio è arrivato dal Ministro della Salute Roberto Speranza al termine di una riunione al Ministero. Lo scontro tra Governo e Regioni riguarda le soluzioni proposte dal Ministero della Salute per l'affiancamento in caso di piano di rientro che non coincidono con quelle delle Regioni. Ora la palla passa alla Commissione Salute della Conferenza delle Regioni che deve valutare le proposte e, se ci sarà l'accordo, portare il nuovo patto in Stato-Regioni per il via libera definitivo.